Bella a tutti burloni, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video insieme a Alienation25 Ciao a tutti Marciers, io sono Erenation84 Ciao a tutti, ciao a tutti Ragazzi, è con tantissimo, tantissimo entusiasmo che vi dico che siamo qui per presentarvi il primo video delle Pot Wars sul canale Una mobilità ideata interamente da me ed Eren che troverete solo e unicamente sul mio server mc.pixel.net Quindi se volete andare a giocarci andate, trovate tutti i link in descrizione Eren, sei carico? Sei pronto? Sono carico a testa Io sono davvero emozionato ragazzi perché ci lavoriamo da abbastanza tempo Ringrazio tutto il server che mi ha aiutato, Red eccetera eccetera E nulla, direi che possiamo iniziare Ma prima, lasciate un like Quanto dobbiamo arrivare per il prossimo video? 10.000 No, raga, easy Cioè abbiamo creato un minigame, raga 10.000 Ok, 10.000 Easy Ed inoltre ragazzi, alle 18 sempre, in contemporanea con questo video, è uscito un video sul canale di Eren Vi lascerò sempre il link in descrizione perché sono due partite diverse Sono belle da vedere tutte e due Quindi niente ragazzi, ci vediamo in partita dove vi spiegherò tutte le varie cose Perché potrebbe essere abbastanza difficile capire perché siamo stati abbastanza trolloni Bella Ragazzi eccoci qua subito, siamo nella mappa rifugio e il primo item con il quale potremo prendere gli oggetti Sarà la stella del nether Così no, perché giusto è un item da tutti i giorni Un item da tutti i giorni E l'oggetto con cui potremo fare i ponti non sarà più la sandstone ma sarà il quarto cisato Non ci facciamo mancare niente Non ci facciamo mancare niente Il secondo oggetto, diciamo, quello che è più o meno il ferro nelle Bedros è la Prismarine Che sarebbe il cristallo in italiano, il cristallo Ciao De Nudo, lui ha cambiato nome perché Io vado subito al centro Al centro Che poi, sai cosa fai? Porti l'oggetto leggendario, ovvero l'oro nelle Bedros e ci fai vedere che cos'è, va bene? Paglia, deve essere una sorpresa Raga, nei commenti scrivete intanto secondo voi che cos'è Sì, scrivete che cos'è Così di cattivera dovete scriverlo Dovete scrivere proprio di cattivera che cos'è Io so già che cos'è ovviamente E beh È scemo che sono L'abbiamo scelto noi quindi Cos'è quel pot lì a sinistra negli angoli, Simo, che cos'è? Cos'è che ci sarà? Un pot enorme, cosa ci sarà dentro? Quasi cosa ci vado a fare un giro, sai? Voglio andare a vedere che cos'è Sì, così pronti via Non so che cos'è Che hype Metti l'hype quando fai così Vabbè ragazzi, vi dico subito che in questa modalità ci sarà un qualcosa di davvero speciale Cosa che secondo me non vi aspettereste mai di vedere sul canale, sinceramente Ma qualcosa di finale stiamo parlando di quello Stiamo parlando di qualcosa di finale Qualcosa di anomalo Qualcosa di incredibile Io ho finito i blocchi, no ce li ho ancora Guarda, te li butto qua se vuoi No no ce li ho, ne ho 59, 58, 57, 56 Mi raccomando anche ragazzi Iscrivetevi al canale per avere novità sempre su questo minigame Perché ovviamente Questa è una beta Se ci saranno delle migliori da fare voi scrivetelo nei commenti Noi valuteremo Valuteremo se ci sarà qualcosa da aggiungere Esattamente Quindi niente, adesso vi faccio vedere ragazzi C'è un altro villager Clic destra shop normale Clic sinistro shop speciale C'è lo shop speciale quindi Ma davvero? Lo picchio Ma no, non ci credo raga Granata Spara fuoco Spara neve Pozione di veleno Pozione di danno Pozione di debolezza Bucco nero Spara animali E final pot E anche l'ender pearl Sono un attimino Sono un attimino contento Sono entusiasta Sono felicissimo Sono davvero felicissimo E Marci Io ti devo far vedere una cosa Posso farti vedere il materiale finale? Sì, passa Sei pronto? Me ne tengo giusto quattro Che difenderò la base Ho paura Boom Il mattone Simo Perché il mattone? Spiegalo Perché il mattone Che nelle bedwars È il materiale base Chiamato bronzo Già Perché il pot Che è l'oggetto principe È fatto di mattone Eh già Raga La genialità Io sono davvero carico Devo essere sincero Ok, ho sei Mi sarebbe un cristallo No, sei sono i cristalli Allora, un cristallo ce l'ho No, no, ce ne ho sei Me ne sarebbe proprio Me ne sarebbero proprio Sei e un mattone Per fare i piedini Quelli fighi Quelli con Vabbè, intanto io ti do questo Se lo vuoi Per ricevere contraccolpo Perfetto Facciamo così Facciamo così Mi faccio dei blocchi E io direi che vado già A attaccare qualche team Secondo me è la cosa mia Perfetto, guarda Top Io intanto sto qui E cerco di bardare il pot L'hai fatto vedere il pot? No, il pot Ragazzi Guardate il pot Mamma mia Che pot E qui c'è il pot Con la caccia dentro Mamma mia Perché noi siamo Il team a caccia Esatto È notare che tutti i team Hanno nomi di alberi Perché sono i pot Che contengono L'arbocello di quel team Mamma mia Che mori Io sono emozionatissimo Che trip Perché idee miracolose Veramente Beh, sono proprio Boh Io vorrei andare da Dai birch I birch sono robotiche I zinico Io ci provo No, forse quelli sono spruce Ma quelli sono spruce, è vero Sono umbrone red Vado dai birch Beh, sono gli spruce lì I birch sono dall'altra parte Ah no, ok Sì, conviene andare dagli spruce Così sfrutti Devo prendere assolutamente Del cookhead Del cosi per mangiare Perché se no Ma come faccio Ma come faccio Ok, intanto Bardo Poi se non c'è nessuno Ti prendo altri mattoni al centro Vai, vai Fai così Fai così Così almeno a 64 mattoni Ragazzi faremo vedere Il final pot Faremo vedere il final pot Quello pesa Sei pronto Simo Sei davvero carico Non lo so Guarda, quello proprio È la rivoluzione Il final pot Io mi sento davvero Sono veramente Euforico Io vedo una persona Vai via Meno male Ecco l'arco No, mi sta arcando Mi sta arcando Red No, red No, no Ok, sta attaccando un altro tiro Non lo lascia andare No, no, red, red, red Via, 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 via Aspetta che gli arco anch'io Ce l'hai l'arco? L'hai fatto? Sì, ce l'ho, ce l'ho Sto combattendo Umbron Allora, io sto facendo I blocchi di ferro Quelli ci sono anche qua Ok, ok Killed Killed Top Però non so Non mi ricordo dove si entra qua Per andare dal pot Passa da dietro Passa da dietro No, no Sono stato killato No Allora, Marci Cosa ti posso dare qua? Ma non avevo niente di che Ti do l'armatura Ti do qualcosa? No, ma mi rifaccio Guarda che avevo Ho usato forse 5-6 di prismarine Ma Ah, ok, ok Allora, intanto sto bardando il pot Ok L'unica cosa che è Avevo del mattone in più Per farmi l'arco Ma non lo faccio più l'arco Evito perché Tanto sono delle rushate veloci Ci sta Abbastanza Dai La prima morte ci sta Ci sta Ci sta No, ok Sto studiando Come mi conviene bardare qui i vari ingressi Ci vuole almeno un blocco di ferro Ogni ingresso secondo me Ok Io sono messo bene adesso Però loro sanno che io arriverò Loro lo sanno Eh beh, quello sì Loro lo sanno Ma devo giocare un attimino meglio Ma devo giocare un attimino meglio Assolutamente Absolutly Ci sta Ci sta Ci sta Tu sei già andato? Sei partito? Sono partito per gli spruz Sono partito per gli spruz Ok, io sono un attimino sotto in realtà Perché sto raccogliendo le shard sotto 41 shard 41 shard No, 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 no Mi hai visto, mi hai visto Via, via, via Scappa, scappa, scappa Marci, scappa Scappa, scappa Marci, scappa Marci, scappa Marci, scappa Marci, scappa Oddio Oddio, Simo Simo Dai davanti Lo sto facendo Via, 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 via No, sono in due, sono in due Via I verdi stanno attaccando lo spruz Io lo lascio andare Che magari ti do una mano Ok Sì, sono riuscito ad entrare Sono riuscito ad entrare Sono riuscito ad entrare Sono riuscito ad entrare Dov'è? Ok, ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ok, mi sono chiuso Mi sono chiuso No, cazzo Sono uscito Come sei uscito? Porco due Porco due Dov'è? Ok, ho entrato l'entrata Mi shifto Mi shifto Mi shifto, Simo Simo mi shifto Vai, voglio il boom Voglio il boom qua Non so dove è il pot Non so dove è il pot E' qua, è qua Uno Due Tre Boom Lo spruz è andato Mamma mia E subito dopo Hai ucciso uno Ah già E' subito morto uno spruz No, povera Umbreon Così proprio Non se l'aspettava proprio Oh, guardalo Guardalo Ce n'è uno dei Dei jungle Che sta cercando di andare dai birch Mi sembra Ah ok, non da noi Io sto ancora bardando qua Per un momento Appena si avvicinano al ponte Io li freccio Quindi tornano indietro Tranquillo Vado da red Ok, red è qua Lo prendo da dietro Lo prendo da dietro Vai No, ho preso fuoco No, che sfiga Stava combattendo l'altro Stava combattendo l'altro E io li sono andato addosso Mentre stava colpendo l'altro E ho preso fuoco Perfetto Ok, no, sto salendo comunque Sto salendo di nuovo Shallasimo Shallasimo Ok, io sto facendo una bardatura qua Che è una roba devastante È devastating Sì A meno che non ci fregano Che entrano sneaky Non dovremmo avere problemi Allora, vai, 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 vai Sandstone E pot Quando c'è questo silenzio Io mi aspetto qualcosa Sappilo, eh Voglio il peggio boom adesso Giù di qua Vai, vai, vai Vai giù Giù, Marci Giù, 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 Marci Giù, 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 Marci Giù, 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 Marci Giù, 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 giù Vai, spacca C'è il ferro, c'è il ferro Boom Spaccati Spaccati Mamma mia Sono chiuso dentro Aspetta, sono chiuso dentro adesso Dove è che sei? Sono dai jungle Dai jungle Dai jungle sono Eh, potrei venire ad aiutare Vedo un blu che sta andando dai bianchi Ok Il blu è lo spruz No, il blu è lo spruz Sì Minchia Ah, sta combattendo con loro Sì, ma io li lascio fare In realtà Hai presso piano Dov'è che è andato il verde adesso? No Oddio Stavo cadendo giù, Marci Ho piazzato un blocco Mi sono salvato Simo, ma se vado direttamente dai birch Minchia Ma vai, ma vai Mi faccio tutto il giro di colpo Mi faccio Però c'è anche C'è anche Saim Quello dei verdi Guarda, io sono un attimo al centro ora Ah, di sotto Oddio Siamo gli unici con il pot, Simo Ok, Marci Io sono un attimo al centro Prendo tutto il mattone che trovo E volo in base Che a questo punto potrebbero attaccarci Qua abbiamo 16 32 mattoni Direi che Che può andar bene Che ne pensi? Ma Marci, Marci Ok, ok Ti sento in combattimento Ok, ok No, sono morto Sono morto di danno da caduta Marci Mi fatti tutto Guarda qua 32 Ma vai tranquillo Allora, Simo Io te lo dico Vai ancora al centro Se riesci a prendere altri 32 pezzi di mattone Vorrei fare il final pot Guarda, aspetta Tiro giù un verde Se riesco Preso Ok, ciao Ah Ma mancavano due persone però Manca uno spruce Dai, allora Manca uno spruce Eh, lo vedo Lo vedo Attendiamo Attendiamo Vieni, vieni Facciamo sto final pot Guarda Io cerco di farmare qua Ok Sì, si sta arrivando Eh, ma lui sta arrivando Sta arrivando da te Lo uccido? Eh, Marci Come vuoi Sta arrivando Se pensi che può essere un problema Uccidilo Io qua ho 14 16 Dai, passate, passate Passate, passate Spacca il cordo Devo ucciderlo Devo ucciderlo per forza Dai, uccidilo Devo ucciderlo per forza Devo ucciderlo Devo uccidilo Oh, là Mamma mia che partitona Mamma mia Dai, abbiamo vinto Mamma mia, raga Non vi abbiamo fatto del final pot Raga, però è un pot Con tanti, tanti misteri Io ve lo dico Magari ve lo faccio vedere dopo Alla fine E niente, ragazzi Io spero Che questo video Delle Potwars Vi sia piaciuto Vi invito a passare Sul sale Perché c'erano Due nuove modalità Una l'avete vista Alle 16 E una l'avete vista Adesso Alle 18 Le cubo E le pot Mi raccomando E lasciate un like E lasciate un like E passate dal canale di Simo Che ha fatto anche lui Una Potwars Davvero devastante Noi ci vediamo in un prossimo video Da Marcio è tutto Bella Bella Noi ci vediamo in un prossimo video